video presentazione del corso 05 2020 didattica distanza ambienti approcci metodi e valutazione percorso formativo in convenzione tra istituto comprensivo osso e ami dell'associazione insegnanti maggio settembre 2020 lezioni e laboratori sincroni e asincroni se dopo aver visionato l'intero video ti rimarranno ancora alcuni aspetti da approfondire potrai farlo durante il primo incontro sincrono o tramite il forum assistenza tecnica in alternativa guarda la guida generale presente nella pagina illustrativa del corso salve questo percorso formativo è stato progettato creato e sarà gestito da anitel associazione nazionale insegnanti di utori learning ente accreditato dal mio per la formazione la nostra storia inizia con il primo corso online in italia dedicato al mondo scolastico organizzato da rai educaesional nel 1999 a cui parteciparono 200.000 insegnanti in questo percorso formativo denominato multimedia scuola condotto da carlo massarini e diretto dal professore gino roncaglia anitel ha contribuito mettendo a disposizione le guide e tutorial successivamente nacquero i corsi ansas in dire all'interno dei forum prima vera occasione di un confronto nazionale è nata la nostra community tutti i docenti tutor con il compito di facilitare guidare la formazione dei colleghi la nostra community si è sempre caratterizzata per una costante e innovativa ricerca nell'ambito metodologico didattico pedagogico applicato alla prassi quotidiana in classe i nostri progetti formativi nascono dall'esperienza sul campo dei soci condivise in rete appassionati da anni a riorganizzare la didattica tramite l'elaborazione di strategie protesi a migliorare l'apprendimento lungo il tragitto ti accompagnerà un esperto team di docenti con la funzione di facilitare il tuo percorso di consigliarti nelle scelte strategiche di risolvere eventuali problemi tecnici laura antichi professoressa di filosofia esperta di nuove metodologie e di didattica digitale gioachino colombrita docente di diritto esperto realizzatore di ambienti di apprendimento immersivo valeria zangari docente progettista di learning object per la didattica valerio pedrelli autore di software e di applicazioni didattiche nonché presidente amnitel il periodo ufficiale del corso va da maggio a settembre 2020 ma sarà possibile completarlo entro dicembre il corso è suddiviso in quattro moduli tematici che si apriranno in successione ogni 15 giorni non è indispensabile terminare un modulo prima dell'apertura dell'altro in quando è possibile procedere secondo i tempi a disposizione ogni modulo è introdotto da una web lesson in diretta di circa 120 minuti con funzione introduttiva gli argomenti trattati a distanza di una settimana si terrà un web lab sincrono attività facoltativa alla quale è possibile partecipare per richieste di delucidazioni approfondimenti tutoring e counseling queste istanze possono essere esplicate anche dai forum tutoring e counseling presenti in ogni modulo l'incontro conclusivo un webinar sincrono si terrà in settembre e avrà la funzione per determinare gli apprendimenti e contestualizzarli nella prassi quotidiana per una completa visione del progetto consulta la guida generale presente nella pagina illustrativa del corso i processi predisposti partono dalle attività di studio e ricerca individuale o a gruppi tematici il percorso è agevolato dai docenti e dagli esperti con funzione di tutoring e counseling il confronto sarà il fulcro delle precedenti azioni prima di passare ad un progetto realizzativo nel contesto degli apprendimenti individuali e di gruppo la condivisione degli elaborati realizzati arricchirà l'esperienza mirata a una ricaduta diretta nella prassi didattica quotidiana il processo di valutazione o autovalutazione avrà l'obiettivo di individuare eventuali approfondimenti da compiere il percorso formativo si sviluppa in una parte fissa info tool contenente i servizi e da quattro moduli tematici ogni modulo è organizzato in web lesson sincrone o asincrone con materiali di studio e in web lab sincroni per il tutoring e il counseling al termine del percorso è prevista una rielaborazione riflessiva sugli apprendimenti con verifiche e valutazione gli incontri sincroni potranno essere di due tipologie web lesson unità didattica sulle tematiche modulari precedono ogni modulo in caso di assenza o qualora si verificassero problemi di collegamento per le caratteristiche della connessione in loco gli incontri in diretta verranno registrati con la possibilità di connettersi in modalità individuale agli argomenti trattati in caso di difficoltà audio è consigliato uscire e rientrare nell'ambiente web lab incontri facoltativi con lo scopo di approfondire e progettare nel contesto di uno specifico modulo per maggiori dettagli consultare il calendario alla guida alcuni requisiti per partecipare ai webinar meglio indossare cuffie a microfono nel caso si dovesse intervenire in diretta ricordarsi di accendere il microfono prima di intervenire e di spegnerlo alla fine dell'intervento device possibili da preferire la postazione fisse o il notebook possibili anche il tablet e i cellulari purché dotati di schermo uguale o superiore ai 10 pollici connessione uguale o superiore ai 20 megabit per secondo per reti fisse ideale dai 60 in su 4g per reti mobili 5. Le principali problematiche legate alle videoconferenze sincrone possono essere difficoltà di connessione sintomi si cade spesso si vede e si sente attratti cause rite di servizio obsoleta non aggiornate rimedi cambiare gestore dei servizi ma non sempre è possibile ottenere velocità adeguate in certe zone d'Italia device utilizzati obsoleti in seconda posizione sintomi grafica scadente difficoltà ad aprire ambienti sincroni 2D o 3D cause hardware firmware incompatibili con programmi o ambienti di ultima generazione rimedi acquistare un nuovo device di ultima generazione difficoltà audiografiche sintomi nessun output audio oppure di bassa qualità grafica scadente cause scheda audio o scheda video non aggiornata rimedi regolare settare la scheda audio o video o sostituirle come primo tentativo uscire e rientrare nell'ambiente al primo ingresso ti verrà chiesto di installare l'applicazione appropriata device utilizzato pc fisso 4 android 5 ios 6 ipad iphone smartphone per un'ottimale leggibilità dei documenti trasmessi è consigliabile una postazione fissa in questo caso è possibile aprire il webinar con chrome evitando l'installazione dell'app per una partecipazione funzionale alla diretta webinar si consiglia una connessione minima di 20 megabit per secondo nelle reti fisse 4 giga nelle connessioni mobili tipo iphone e smartphone per l'utilizzo dell'ambiente animating si consiglia di consultare la guida generale cosa dovrai fare in ogni modulo nel cassetto delle azioni è disponibile un forum opzionale per il supporto nel forum di confronto prescrittivo dovrai confrontarti e condividere i tuoi progetti al termine la verifica del modulo attribuisce 100 crediti il corso prevede un totale di 400 crediti l'attestato si attiva il raggiungimento del 60 per cento di essi cioè a 264 crediti per l'utilizzo dettagliato di questi ambienti consulta la guida generale posta nella pagina illustrativa e all'interno del corso stesso la tabella di valutazione dei crediti è presente in info e tool la parte fissa di ogni modulo per ogni altra informazione e approfondimento consulta la guida generale posta nella pagina illustrativa e all'interno del corso stesso altri chiarimenti possono essere esposti al termine di ogni webinar sincrono